Ragazze, ciao! È venerdì, penso che riconosciate il mobilone. Vi voglio far vedere l'interno, come è messo. Oserei dire ridotto, perché è da un po' che non lo sistemo. E ho tutte le scorte considerate in questo mobilone. Tutte le scorte che, appunto, come avevo accennato nell'ultimo video, servono per il bagno, sia me che per Paolo. Sotto, lo troviamo così, io cerco di dividere sempre tutto in ceste, ma come potete vedere è bello incasinato. Adesso cercherò di sistemarlo, darò il meglio di me stessa. Ragazze, buongiorno! Qui è mercoledì, sono le 2, e come vedrete nella clip precedente, l'altro giorno avevo iniziato a sistemare questo mobilone. La parte sopra si è conclusa in questo modo. Non fate caso a questo, perché lo devo risistemare e declatterare. Quindi, per ora, l'ho sistemato così. Su, 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 in alto, ho delle scatole con gioiellini e delle cose da vendere su Vinted, e delle altre scorte. Nel secondo scaffalino ho tutte le scorte, sciampi, detergenti, bagnoschiumi, e via dicendo. Sotto ho tutti i miei trucchi, sia nuovi che non, e poi sotto, che ho sistemato oggi, ho appena finito, dove vedrete tutto, almeno più ordinato di prima sicuramente. Vi mostro il primo scaffalino, in questa cesta rosa, ho tutte le spazzole, phon e piastre. Di fianco ho un beauty, con tutti i miei accessori per i capelli, elastici e mollettine. Sotto ho tutte le cose che uso quotidianamente. Sotto ho messo, in questa scatola sulla sinistra, una scatola ricavata da un profumo di Dior, ho messo tutte le cose per l'estate, creme solari, e altre cosine che servono appunto per l'estate. Mentre in questo cestino bianco, ho tutte le mini sides, che porto in viaggio, e dietro in quel cestino arancio, poco bellino, ma ce lo facciamo andare bene, ho tutte le scorte per i denti. Nell'ultimo scaffalino, ho tutte le medicine. Questo è come è venuto. Ho fatto del mio meglio. Ovviamente con scatole che avevo in casa, non sono andata a comprare nulla. Vado avanti con il risistemare, e ho finito tutto il mobilone, pulito e organizzato, e ho declatterato. L'unica cosa che mi manca, come potete vedere, è questo mobiletto dove ho tutti i miei trucchi. In realtà, quando l'ho comprato anni fa, mi sembra di averlo preso su Amazon, non ricordo, perché sono veramente tanti anni che ce l'ho, nasceva solo per i trucchi. Una volta avevo molti più trucchi, avevo una fissa esagerata per i rossetti, è solo che poi con andare avanti degli anni, mi sembra di averlo già detto in altri video, sono diventata meno dispendiosa, nel senso, prima compravo, 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 e poi magari lasciavo lì e non usavo, fino a quando poi magari la roba o mi andava male, o passava troppo tempo, e era inutile tenerla. Poi con il passare degli anni, ho capito che comprando e non usando, non mi portava nulla. Quindi, era principalmente solo per i trucchi. Poi con il passare dei giorni, dei mesi, degli anni, e come potete vedere, è diventato anche un po' un portagioielli. Riassumendo, voglio andare a declatterare, magari i rossetti che non metto, o regalo, ovviamente quelli nuovi li regalo, e quelli usati che non metto più, lì, purtroppo li vado a buttare. Invece, qui sulla sinistra, ho un portagioielli, quello dorato brillantato, e invece, questo qui, è il mio beauty, dove ho i trucchi che uso quotidianamente. Sapete bene che mi trucco poco, però magari quando esco la sera con amici, quando mi va di vedermi un po' più bella, mi trucco, sì, ovvio. Quindi adesso andrò a liberare il tutto, a pulire, e poi vado un attimino a capire come organizzarlo. Ecco il caos che si è creato. Sono andata a liberare tutto il cofanetto, l'ho pulito con le mie salviette igienizzanti, che ho preso al Ticotà, buonissime, non sono molto umide, ma profumano da morire, e igienizzano soprattutto. Da questa parte ho messo tutti i rossetti, matite, e pennelli, e altri trucchi che avevo nel cofanetto, mentre da questa parte ho tutta la bijiotteria, e non solo. Vi faccio vedere, nello specifico, tutto quello che andrò a declatterare, e quello che andrò a rimettere a posto. Inizierei subito col farvi vedere, i rossetti, che sono un po' di più. Vi ho messo qua nel muro, così almeno avete uno sfondo bianco, e non vi fa confusione. Iniziamo così a random. Mi capita in mano questo rossetto di Banana Beauty. L'ho comprato anni fa, e vi faccio vedere il colore. Non so se si percepisce bene il colore. Non è un colore che uso solitamente, però devo dire che è molto molto bello. È un... Non saprei come spiegarlo. È un prugna, ma neanche un po' più chiaro. Questo lo vado a tenere assolutamente. Anche perché è in condizioni buone. vado avanti con questo rossettino. Il colore è questo, spero si veda bene dal video. È un rosa. È quasi finito, è quasi terminato. L'ho usato veramente tanto. Questo l'avevo preso da Upim. Se non sbaglio, avevo un buono, e ho detto, ma sì, mi era andato all'occhio, e l'ho preso. L'ho usato tantissimo. Ancora ce n'è un po', quindi lo vado a tenere. Vado avanti a caso. Ho questo della MAC. Questo praticamente è finito. L'ho spulciato tutto, e mi dispiace un sacco che è terminato. Il nome è Velvet Teddy 617. È finito del tutto. Vado avanti con questo. Devo essere sincera. Non sapevo neanche di avere. Andiamo a vedere cos'è. È un color pesca. Mai messo. Sincera, sincera, sincera. Ancora lo tengo per ora. Lo andrò a provare, e poi vedo cosa fare. Passiamo a questo di Shiseido. Il pack semplicissimo, carino. Lo vado ad aprire. Oh, questo è un bel marrone scuro, scuro, scuro. Ve lo voglio far vedere, bene, ma non so se riuscite a percepire. È un marrone molto scuro. Però lo vado a tenere perché magari sfumato può venire fuori una bella cosa. Mi viene in mano questo. È un po' vecchiotto perché non si vede neanche più la marca. Andiamo a vedere com'è. Oh, questo è bello. Voi dovete sapere che io adoro i marroni, i nude, i rosa chiaro. Quindi vedrete principalmente queste tonalità. Ancora ce n'è, lo vado a tenere. Ho questo di Euphidra. È un colore sul rossastro, ma rosso un po' più acceso. Lo devo provare, lo devo provare. Quindi per ora lo teniamo. Ho questo di Dior. È consumato fuori, ma in realtà non l'ho usato tanto, perché io di rossi ne ho un po', ma non mi fanno impazzire su di me. Con la scritta Dior è un rosso, è un bel rosso, quindi lo vado assolutamente a tenere. Ho questo, che è un marrone, sempre un marrone, ma mi si è appiccicato tutto fuori. Non so come sia potuto accadere. Sicuramente avrà toccato un gloss o sicuramente qualcosa di liquido, di appiccicoso. Peccato fuori, ma è nuovo, mai usato, perché sicuramente avrò pensato di finire gli altri. È bellissimo, lo vado assolutamente a tenere. Ho questo qua di lustre. Lo vado ad aprire. Ed è ovviamente un marrone. Ho tutte le tonalità di marroni. Adoro il marrone, ve l'ho già detto. Lo vado a tenere, questo lo uso. Poi, questo piccolino di pupa, un pack semplicissimo, carinissimo. È un rosso, se vi può interessare, è un 742. Vi faccio vedere la tonalità. È un bel rosso, questo è un mini size, quindi è comodo anche da portare in viaggio. Lo andiamo a tenere perché è il nuovissimo, mai usato. Ho questo di pupa, sempre. Eccolo qua, ora si vede bene. Questo, se non sbaglio, me l'aveva regalato mia zia, una delle mie due zie. Sempre di pupa, sempre di pupa, sempre rosso. Io adesso con tutti questi rossi, sinceramente, non so cosa farne. Quindi sicuramente o li andrò a regalare, perché sono nuovi, come potete vedere, mai usato. Ho questo qua, pack semplicissimo. La marca è questa, Coroll Crema 45. Vi vado a far vedere la tonalità. È sempre un rosso. Questo l'ho usato perché si vede, ma non è il mio genere, è più sull'aranciato. Devo provare e vedere. Quindi questo penso di declatterarlo. Un altro è della stessa marca. Sempre stessa marca che vi faccio vedere. Andiamo a vedere la tonalità. Oh, questo è un bel marrone, più scuro degli altri. E sicuramente lo andrò a tenere. Mi capita in mano. Questo qui, non so dirvi la marca, sicuramente mi è stato regalato. È sempre un rosso. La tonalità è questa. È nuovo. Quindi lo andrò a tenere o a regalare. I rossetti sono terminati. Vi vado a far vedere tutti i gloss. Ho questo qui di Kiko. Mi era stato regalato sempre da mia zia a un Natale, mi ricordo. Ma mi ricordo che non mi piaceva tantissimo come mi stava. L'ho messo una volta, se non sbaglio. Adesso vi vado a far vedere la tonalità. La tonalità è questa. Vedo cosa fare, se regalarlo. Ho questo qui che è un lucido normale, ma lo vado a buttare perché è strausato. Ho questo gloss rimpolpante di Kiko. È neutro, quindi è trasparente. Lo vado a tenere perché lo uso. Ho questa tinta labbra di L'Oreal. È un color cioccolato. Ragazze, quando l'ho preso non so come mi ha fatto la testa. Perché è un matte, partiamo dal presupposto che è matte, ma è molto matte. Non mi piace, non mi piace. Lo andrò a regalare perché l'ho usato veramente una volta, magari con mia mamma. Vi faccio vedere comunque la tonalità. Così voi direte, ma vabbè, cosa ha di male? Nulla. È solo che poi quando lo vai a mettere sulle labbra è veramente matte, matte, matte. Troppo direi. Ho questo, un rossetto matte, che è quasi simile a quello di L'Oreal che vi ho fatto vedere precedentemente. Questo me l'ha comprato mia suocera a Napoli, quest'estate. E devo provarlo perché non l'ho mai messo. È bello, eh? Per carità, è molto molto bello. Ho questo Lip Gloss di Max & More, sempre matte. Penso di andarlo a regalare perché sono piena di rossetti rossi che praticamente non uso quasi mai. Passerei alle matite labbra. Ho questa matita di Max & More. Il colore è questo. È sempre un rosso. Da decidere se tenere, ma sicuramente una matita rossa la tengo. Mi è scappata fuori questa qui, che devo essere sincera, non so da dove sia uscita. E la vado a declatterare, che non è il mio genere. Ho questo verde, così, ma andrò a declatterare assolutamente. Un'altra matita rossa. Vediamo se è nuova o è nuova. Quindi l'andrò a regalare. Ho questa matita di Pupa, che non so da dove sia uscita fuori. Mi credete che ho cose che non mi ricordavo manco di avere? È un matitone verde, che non uso assolutamente. Quindi vado a buttare perché vedo che ho usato. Questa matita marrone l'adoro. È di Deborah. E il colore è questo. La uso spesso, quindi la tengo. Ho un'altra matita di Kiko. Il colore è questo, sempre marrone. Io la uso per fare o il contorno labbra, o ad applicarla proprio con un glosso, senza. La tengo. È scappata fuori questa matita occhi, penso che sia una matita occhi color oro. La vado a tenere perché può essere sempre utile per fare un contorno, una sfumatura. La vado a tenere, è dorata. Io l'eyeliner non lo metto, quindi questo lo vado a regalare. È un eyeliner più sul marrone che sul nero. Matite terminate. Vi faccio vedere quello che ancora mi è scappato fuori dal cofanetto. È questo fondotinta di bottega verde, ma è vecchio. Quindi penso di andarlo a buttare. Qui dentro c'è un mascara dell'Avon. L'ho preso poco fa, quindi è nuovo. Lo vado ovviamente a tenere. Un paio di pennelli. E poi, non so se queste voi le usate. Io l'ho comprata, mi sembra ovviesse. Sono i foglietti per assorbire il sebo in viso. Molto, molto comodi. Ancora ne ho un po', li vado a tenere. Anzi, devo fare la scorta. Adesso vado a capire cosa tenere e cosa declatterare. E poi vi faccio vedere bigiotteria. Ci siamo, ci siamo. Queste sono le cosine che vado a declatterare. Alcune le regalo perché sono nuove. Alcune le vado a buttare, ovviamente. Adesso andiamo a capire il caos che c'è qui. Vi faccio vedere velocemente quello che ho. Alla mano mi passa questo portachiave. Questo ce l'ha regalato lo zio di Pierpaolo al suo matrimonio. E lo andiamo a tenere perché è collega del filo d'oro. Questa è una spilla che andrò a tenere. Perché può far comodo per tenere una sciarpa o un cappotto. Premetto che devo comprare un portagioia nuovo perché ho troppa roba e non si capisce nulla. Ho queste due palline. Ovviamente è bigiotteria, però vado a tenere perché sono carine. Ho questi due cerchi che uso specialmente d'estate. Sono in argento un po' rovinati, ma penso che li andrò a tenere. Ho il mio anellino preferito, che vado ovviamente a tenere. Ho tutti i miei anellini, che non vi faccio vedere nello specifico perché sennò il video non finisce più. Questi li vado a tenere tutti. Diciamo che li metto nelle occasioni un po' più speciali. Ho questo anello che a Pierpaolo gli va grande. A me non mi va ovviamente. È da uomo. O lo regalo al fratello di Pierpaolo, se gli va, o lo metterò su Vinted. Vedo, o lo regalo o lo vendo. Qui una cordicina per gli occhiali, che uso specialmente d'estate perché sono colori un po' più estivi. Questi due braccialetti, penso di declatterarli perché sono estivi ma sono rovinati. Ho un dodo, che ovviamente tengo. Ho questo anellino in perline. L'estate è molto carino. Fa gioco e veste. Lo vado a tenere. Ho questo orecchino che è un amore. Io lo metto nel secondo buco dell'orecchio. Lo vado assolutamente a tenere. Ho vari orecchini. Sempre bisiotteria che andrò a tenere. Sono semplicissimi. E poi ragazzi, qui come potete vedere, sono tutti confezionati in bustine. Perché non avendo ancora un portagioie, devo tenere per forza le cosine così, in questo modo. Ho ancora collane e ho orecchini. Qui dentro ho altre cosine che devo vedere se declatterare o meno. Quindi adesso ragazzi, io mi metto a fare tutto questo e poi vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci qua. Allora, vi faccio vedere come ho sistemato per ora. Sopra ho messo tutti i rossetti che tengo, più il mascara nuovo e il fondotinta. Nel primo cassettino, quello piccolino, troviamo tutte le batite, labbra e occhi, più i foglietti per l'eccesso di sebo. Nel secondo cassettino, ho messo, diciamo, le cose che non ho in abbondanza. Cioè un portachiave, una spilla, dei cornini che avevo in più da attaccare a delle collanine. Poi sotto ho tutte le collane e sotto ancora per ora ho messo solo un orologino. Poi in questo portagioie di Carpisa, che come potete vedere si apre in scompartimenti, ho messo tutti gli orecchini, tutti gli anelli, che adesso non vi sto a far vedere uno per uno perché sennò veramente non finiamo più. E poi qui sono tutte le cosine che ho declatterato, che regalerò, che darò ai miei amici, alla mia famiglia, ovviamente chi vuole. Ciao ragazze, buonasera. Io sono appena uscita dalla doccia, che bello, un senso di relax. E scusate la Miss, ovviamente sono in pigiama perché poi stasera non uscirò, non usciremo. E non vi ho detto che questa settimana Pierpaolo ha cambiato orario, ha cambiato turno. Quindi invece di fare dalle 2 alle 22, farà dalle 12 alle 20. Quindi per le 8 e 20, 8 e mezza sarà qui a casa. Che bello, quindi ceneremo con calma, arriverà, si farà una doccia, ceneremo con calma e poi ci rilasseremo. E sono uscita adesso dalla doccia, ve l'ho già detto. Vedete i miei capelli un po' gonfi, ma devo dire meglio del solito. Mi vedete guardare davanti ogni tanto perché ho lo specchio, lo sapete ormai. E volevo fare skin care insieme a voi, skin care serale. Così almeno chiudo il video e poi ci salutiamo, facciamo due chiacchiere. Allora, come primo step andrò a mettere il mio siero, viso, all'acido bialuronico. Ovviamente ho il viso deterso, quindi va bene. Voi che mi raccontate di bello? Io con questo siero mi sto veramente trovando bene, devo essere sincera. Faccio pochi passaggi, ma buoni. Buoni per me, per la mia pelle. Adesso vedete la pelle un po' più arrossata perché di solito quando esco dalla doccia mi incalorisco tutta. Vado a far asciugare bene il viso e poi come secondo step vado ad applicare la crema viso. È una crema giorno, è vero, però adesso ho solamente questa. Quindi vado ad applicare questa, non ne vado a mettere eccessivamente. E vado a spalmare il tutto. Che bello. Ho un senso di relax. Già quando faccio skin care mi rilasso. Poi quando, appena esco dalla doccia, faccio subito skin care dopo. È la delizia. Poi vado a mettere gli ultimi due prodottini, che sarebbe il siero di Imim. Il siero contorno occhi di Imim, che basta veramente una goccia. Che ve l'ho fatto vedere. Anzi, se qualcuno di voi ha dato un'occhiata al sito, me lo scriva nei commenti. Ma basta veramente proprio due gocce, gocce, gocce. E poi per chiudere il tutto vado a mettere la sua crema contorno occhi, sempre di Imim. Basta veramente anche questo una goccia. Come ultimo step vado a mettere il mio burro cacao. Anche questa giornata è arrivata a termine. Io ragazze vi saluto, concludo il video qui. Chi non l'ha già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like o un commento e di attivare la campanella per non perdermi nessun altro video. Cosa importantissima. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. A presto! A presto!